Aspettate a applaudire signori, mi pare un elemento di saggezza che in ogni viaggiatore non deve mai mancare. Io credo che siete tanti qui, a parte il Festival della Mente, credo che l'attrattiva di un incontro come questo è che tutti quanti noi viaggiamo, ma in forme molto diverse. E prima o poi tutti quanti ci accorgiamo, chi più chi meno, ci accorgiamo che viaggiare non è un'arte semplice e soprattutto che nel corso della nostra esistenza, la stessa pratica del viaggio è soggetta a un mutamento continuo. È come se ci fosse un viaggio dentro il viaggio che ciascuno di noi fa e d'altra parte la metafora più forte che c'è del viaggio è quella della vita, che è un viaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Non parliamo di questo naturalmente oggi. Ma insomma però è importante definire fin dall'inizio un soggetto che si muove. Potrà sembrare strano che qualcuno oggi abbia necessità di ricordare che il soggetto che il soggetto si muova, che è mobile. Però guardate, basta aprire i giornali ogni giorno, vedere la televisione per dover constatare come gli stati moderni, stavo per dire il potere moderno, gli stati moderni siano assolutamente incapaci di entrare in rapporto con le persone che si muovono. È un grande paradosso questo della modernità. È un grande paradosso perché tutta la modernità si è organizzata per stati. Io sono un geografo e dunque so perfettamente che tutta la faccia della terra si suddivide in circa 200 stati. Non c'è altro sulla faccia della terra. La prima cosa che c'è sono gli stati. E sono dappertutto ormai. E si vanno anche costruendo. Uno può pensare che lo Stato sia una costruzione del passato. Non è così. Il Sud Sudan, l'ultimo degli stati nati, è nato due o tre anni fa. Ma lo Stato è statico, non si muove. E non è un bon mot, non è un moto di spirito. La modernità, sapete dove nasce la modernità? Nasce sotto il portico degli innocenti a Firenze. Cioè all'inizio del Quattrocento. Lo spazio è stata la più grande. Oggi il Made in Italy è, sono le borsette, i guanti, i vestiti. Il Made in Italy nasce a Firenze nel Quattrocento quando si inventa qualcosa che oggi noi non stenteremo a chiamare immateriale. Cioè lo spazio. Questo modello che si posa senza essere visto su tutte le cose e le condiziona perché è il motore del funzionamento del mondo. Nasce a Firenze sotto il portico degli innocenti, con la prima architettura prospettica moderna. Filippo Brunelleschi non sapeva quello che stava facendo. Lo fa come tutti gli artisti. Poi passiamo la parola a Stefano Ariendi. Lo fa come tutti gli artisti. Certo che ha dei problemi nel farlo, ma non capisce fino in fondo. Il Papa manda da Roma a Firenze un signore invece che aveva tutti gli strumenti per comprendere. E questo signore, uno dei grandi dell'umanesimo italiano, si chiamava Leon Battista Alberti. Ancora noi oggi spieghiamo la prospettiva moderna che sotto quel portico nasce, secondo l'interpretazione che ne dà Leon Battista Alberti. E' ancora quello il modello della spiegazione. Leon Battista Alberti quando capisce che cosa è sorto cambia il proprio simbolo. Lo fa diventare un occhio con le ali perché riconosce che d'ora in avanti ci sarà soltanto un organo del corpo abilitato a conoscere. Ed è l'occhio, completamente staccato dal corpo. Voi direte ma questo è il passato. No, questa è esattamente la contemporaneità. Il drone è esattamente quest'occhio. E' quest'occhio che assomma in sé tutte le funzioni del corpo umano che però non c'è. Quando Leon Battista Alberti capisce questo, non solo fa diventare il proprio simbolo un occhio con le ali, ma sotto ci mette due parolette latine, quid tum, che tradotte significano e adesso? E allora? O se volete, embe? E mo? E proprio così si tradurrebbe. Perché si accorge che è nato un nuovo mondo, il nostro. Il nostro. Perché dico questo? Perché l'unica condizione, perché il trucco della prospettiva, dello spazio, della modernità, lo Stato possa sorgere, è che il soggetto stia fermo. Sotto il portico degli innocenti, per avere lo straordinario effetto prospettico, non ho tempo di dire qual è, vi invito ad andarci, non c'è mai nessuno, sapete. Quindi, il soggetto deve stare fermo, immobilizzato. Un grande genio lusso, Pavel Florensky, morto nel 28, nei campi di sterminio di Stan, nei gulag staliniani, disse, oh, se la corsa è per primo lui, lo sottolineò lui per primo, nel secolo passato, dicendo, come è strano, sembra che il soggetto, perché il trucco funzioni, deve stare fermo, come fosse paralizzato, perché avvelenato col curaro. Insomma, così nasce la modernità, il soggetto sta fermo. Ecco perché ogni giorno, nel Mediterraneo, muoiono decine e decine di persone. Perché è un paradosso, ma tutta l'organizzazione della modernità si fonda su un soggetto statico, che non si muove. È un grande paradosso, perché la modernità è l'epoca della grande esplorazione del mondo. dunque la dissociazione tra la pratica, l'esercizio del mondo, da un lato, fondato sulla mobilità, e il modello del funzionamento del mondo, della costruzione del mondo, che invece si fonda sul soggetto che sta fermo. Quindi il viaggiatore è sempre una persona che, come dire, è pericolosa. è un soggetto che non si definisce. Ed esistono tante maniere di viaggiare. Tante maniere. Partendo dalla consapevolezza che il viaggio è esattamente come nel territorio moderno è la palude, dove non si capisce bene, dove finisca l'acqua e cominci la terra e viceversa, tutto ciò che è anfibio, il viaggiatore, cioè il soggetto mobile, è potenzialmente pericoloso, eversivo, provoca disordine. Ma molti viaggiatori, ecco, come diceva un grande poeta, anch'esso russo, non di origine, ma di cultura russa, Osip Mandershtam, Osip Mandershtam diceva che una volta chi non aveva viaggiato non lo sa da scrivere. Sta dicendo che non c'era niente da raccontare se non viaggiavi, però. Non avevi nulla da dire se non viaggiavi. Cioè, se non facevi pratica della differenza. Tra i grandi viaggiatori a cui oggi bisogna tornare sicuramente vi è quello che è stato il mio amore giovanile, non esito a dirlo, insomma, lo confessano. E cioè un signore straordinario che si chiamava Alexander von Humboldt. Recentemente, sta per uscire, è uscito già da qualche ora il testo che raccoglie una selezione dei suoi viaggi, perché Alexander von Humboldt che inventa sostanzialmente è la figura scientifica con cui ancora noi oggi consideriamo il continente americano. Perché è importante questo signore? Che cosa ha da dirci questo signore? Perché il nostro momento è tale per cui di fronte ai cambiamenti, agli sconvolgimenti del mondo noi siamo costretti a fare, nella speranza di poter comprendere quello che sta avvenendo, noi siamo costretti a fare un'operazione secondo me alquanto complessa che si traduce nella necessità di riesplorare l'opera di tutti coloro che fin qui ci hanno convinto a guardare il mondo come noi lo guardiamo. E Alexander von Humboldt sapete cosa ha fatto? Ha inventato un modello senza il quale noi oggi non riusciremmo a pensare il mondo. Perché voi non lo sapete ma ogni volta che voi ammirate un paesaggio voi non lo sapete nessuno se ne accorge ma dietro di voi a sussurrarvi qualcosa c'è esattamente Alexander von Humboldt. Mai nella storia della scienza è successo che un signore un singolo signore per quanto di eccezionale capacità sia riuscito con la sua opera portata avanti per tutta la sua vita lunghissima vita adesso si campa fino a cent'anni ma ancora nella metà dell'ottocento chi arrivasse a 90 era davvero un'eccezione come Humboldt fa questo signore ha stabilito ha messo a punto ha modellato esattamente quel concetto che noi oggi non solo adoperiamo prima di ogni altro quando ci rapportiamo a ciò che ci circonda ma per legge e questo pochi lo fanno notare ma per legge e la legge si chiama convenzione europea del paesaggio che in vigore anche da noi oltre che in altri 17 stati europei da una decina d'anni per legge il paesaggio oggi ha fatto fuori tutti gli altri concetti precedenti tipo territorio o tipo ambiente cosa dice la convenzione europea del paesaggio dice che non si può più pensare in termini di territorio di ambiente perché perché in quanto fenomeni oggetto di percezione in quanto tali proprio perché percepiti diventano paesaggio mi piacerebbe parlarvi di cosa significa questo passaggio dal punto di vista del funzionamento del nostro paese ma dobbiamo invece parlare credo che sia più utile parlare di questo viaggio e di ciò che ha significato perché questo viaggio è un viaggio che si muove come tutti i veri viaggi su molteplici livelli su tanti livelli c'è una definizione di Montaigne stiamo nel 500 alla fine del 500 Montaigne diceva che viaggiare è l'arte di strofinare il proprio cervello contro quello degli altri strofinare il cervello cioè avere a che fare ma attenzione sapete Montaigne viene prima di Cartesio cioè per Montaigne il corpo e il cervello la mente e il corpo sono ancora la stessa cosa o se non sono proprio la stessa cosa c'è un rapporto strettissimo non si possono separare come a metà del 600 farà Cartesio quindi sta dicendo che quando tu incontri qualcun altro in realtà la cosa che si modifica non è quella che si vede ma quello che hai nella testa ma chi sono gli altri per Montaigne alla fine del 500 per questo vecchio signore che si ritira nel suo castello dopo aver fatto a scrivere e domanda interessante chi sono gli altri se voi prendete l'encyclopedia cioè il testo che codifica il sapere illuministico cioè il nostro sostanzialmente perché se ci fate caso se andate a vedere se aprite un nostro dizionario e poi fate la comparazione con l'encyclopedia voi vedete che noi crediamo che le cose siano ancora ciò che l'encyclopedia alla fine del 1700 ha stabilito il viaggio diventa un'altra cosa diventa un'altra cosa il viaggio diventa tra le altre cose un sistema per mettere da parte i pregiudizi nazionali cioè che significa che il viaggio fa mettere da parte i pregiudizi nazionali significa dire che l'alterità oggi si direbbe le persone con le quali Montaigne avrebbe detto devi strofinare il proprio cervello sono quelli che non appartengono al tuo paese sono quelli che stanno fuori non appartengono alla tua nazione ora si dà il caso che nella modernità gli stati sono sorti sulla base di un principio che nessuno stato rispecchia fino in fondo ma sempre deve far finta di rispecchiare anche il sud sudan dove le lotte fratricide tra i tuzzi e le altre nazioni tra virgolette sono quotidiane all'ordine del giorno e questo principio è che la nazione deve essere unica omogenea cioè la debbono pensare tutti alla stessa maniera cui us regio e us religio è questo il principio cioè se tu appartieni a uno stato devi assumere una determinata cultura una specifica e unica capacità di manipolazione simbolica se non ti sta bene hai una sola possibilità te ne vai vai fuori il soggetto è costretto a spostarsi l'unico sovrano che tentò in epoca moderna tra Montegno e Cartesio di rifiutare questo principio è di pensare che Enrico di Navarra che può dire Enrico di Francia Enrico di Navarra venne ammazzato pugnalato mentre usciva dalla reggia perché lui pensava Enrico che in Francia cattolici e protestanti potessero convivere cioè trasgrediva il principio della omogeneità nazionale dell'unicità della cultura una cultura che si esprime attraverso due indici immediati il tuo credo religioso e il linguaggio che parli formazzato l'unico tentativo dopo non ci provò più nessuno e ogni stato ogni nazione deve avere un'unica cultura uno stato una nazione se proprio non è così devi far finta che sia così ma il viaggio di Humboldt ecco perché si muove su più livelli il viaggio di Humboldt è un viaggio straordinario perché l'alterità la diversità per Humboldt e sono certo le tribù che abitano la selva amazzonica ma prima ancora sono l'alterità vera sono i suoi connazionali sono i suoi compatrioti tedeschi se voi leggete questo testo guardate all'inizio avete l'impressione che si tratti del primo viaggio last minute che sia mai stato fatto non è vero il viaggio di Humboldt è stato il viaggio l'ultimo grande viaggio privato di esplorazione il primo e l'ultimo di esplorazione scientifica della terra dopo il viaggio di Humboldt che termina nel 1804 e dura 5 anni dal 1799 al 1804 dopo questo viaggio l'esplorazione della terra l'esplorazione scientifica della terra diventa così costosa che soltanto gli stati possono permetterselo in questo viaggio Humboldt investe tutta la grande eredità avuta dalla madre che morendo lascia a lui metà del proprio capitale e lui investe in un viaggio la cui preparazione dura anni e anni ma una delle cose sorprendenti è che sotto un altro profilo un viaggio last minute fino alla fine non sa dove andare vorrebbe andare in India naturalmente ma in India gli inglesi non permettono nonostante Humboldt fosse abitasse Humboldt Alexander Humboldt è sepolto a Berlino a Tegel nel parco del castello Reale perché lui quando era in Germania abitava era nato al castello del re di Prussia e abitava lì ma nonostante il livello delle sue relazioni gli inglesi non permettono che uno spione tedesco sia agili indisturbati nei propri domini allora Humboldt pensa di aggregarsi alla spedizione siamo alla fine del settecento da Parigi naturalmente pensa di aggregarsi alla spedizione che Napoleone sta organizzando in Egitto la famosa spedizione da cui nascerà per esempio l'idea di oriente e di orientalismo che noi oggi abbiamo nasce il concetto di oriente per gli occidentali Humboldt pensa di aggregarsi ma il battello che deve arrivare a prenderli a Marsiglia non arriverà mai perché nel frattempo naufraga ve la faccio breve insomma alla fine Humboldt stufo di aspettare salta insieme al suo compagno e alle sue casse di strumenti sul primo battello su un battello che va in Venezuela che cosa hanno in comune queste destinazioni? l'India l'Africa l'Egitto e poi infine il Venezuela sono tutti paesi tropicali allora si diceva equinoziali e perché Humboldt indipendentemente da quale paese fosse voleva andare in uno di questi non importava quale ma uno un paese equinoziale tropicale è molto semplice perché fin da allora all'interno della cultura io come dire l'aggettivo lo adopero tanto borghese si diceva anche allora se volete posso anche dire civile se qualcuno che si andava organizzando l'opinione pubblica che andava sorgendo i paesi tropicali equinoziali erano fin da allora come ancora oggi per tutte le agenzie di viaggio ancora resta erano la meta ideale era una meta sognata e agognata il paese dove oggi si va a fare altro nei paesi tropicali ma che allora perché il borghese tedesco il membro il rappresentante dell'opinione pubblica tedesco ma più in generale europeo agognava i paesi tropicali non per il turismo sessuale né per la qualità dei resource naturalmente ma perché lì non c'era il dispotismo del potere politico di origine aristocratico feudale da cui Humboldt veniva ma questo fa parte del personaggio e se proprio non potevano andare nei paesi tropicali questi signori si accontentavano di andare in montagna che allora si comincia a vedere come diceva un grande amico di Humboldt Schiller il drammaturgo e poeta tedesco la montagna è das frei la libertà tu cur perché perché il controllo del potere statale che allora esisteva di marca aristocratico feudale non saliva fin su e erano borghesi questi che avevano che cultura avevano allora i borghesi cosa conoscevano i borghesi nella seconda metà del settecento in Europa ma ancora più specialmente in Germania dove il dispotismo aristocratico feudale era ancora più marcato aveva una cultura letteraria estetico letteraria così ci avviciniamo al campo spieghiamo anche perché siamo in due a parlare dei viaggi di Humboldt appena gli editati una cultura estetico letteraria avevano leggevano i romanzi di Chateaubriand oppure di Berdardin e Saint Pierre sempre ambientate tropici con la tala di Chateaubriand facevano musica conoscevano la pittura i quadri le immagini ancora oggi nei salotti borghesi esistono i quadri che sono una riproduzione in miniatura di che cosa? delle grandi quadrerie delle gallerie d'arte dei castelli nobili dei nobili così come il nostro salotto è la riproduzione in piccolo del salon della sala delle udienze delle regge insomma la cultura borghese civile era una cultura estetico-letteraria ma del tutto incapace allora di farsi cultura non più volta semplicemente alla contemplazione della realtà del mondo ma alla gestione e al controllo del mondo stesso in una parola soltanto forse più comprensibile più chiara sicuramente una cultura scientifica il grande progetto di Humboldt è esattamente questo prendere la cultura borghese del tempo che è estetico-letteraria e trasformarla in cultura scientifica Humboldt nel 90 era stato evento eccezionale oggi viaggiano tutti ma allora non si poteva viaggiare nemmeno per chi fosse nato a corte ma Humboldt nel 1790 va a Parigi a vedere la rivoluzione Liberté Galité Fraternité dopo quel viaggio si dichiarerà sempre repubblicano anzi abolisce il FON davanti al suo nome si farà chiamare semplicemente Alexander Humboldt e lui sostiene di essere stato fino alla fine repubblicano è un rivoluzionario ma capisce che a differenza di Giacobini tedeschi del suo amico Georg Foster che organizza la comune di Magonza e fa una bruttissima fine capisce che l'affermazione degli ideali civili e borghesi che in Francia la rivoluzione ha portato non si possono trapiantare immediatamente in Germania perché la realtà tedesca è molto più arretrata allora vi è bisogno di una straordinaria nervosissima operazione di ingegneria culturale non mi viene in mente un'altra maniera per chiamarla per cui si prendono i concetti che già sono nella cultura borghese del tempo del suo paese e i francesi direbbero li si adoperano come mot valise come dei veicoli delle valigie per cambiargli di senso durante il processo se volete durante il viaggio ed è così è quasi finito ancora un minuto ed è così che il concetto di paesaggio che prima di Humboldt era un concetto estetico letterario riguardava i quadri i dipinti e riguardava le descrizioni letterarie degli scrittori francesi che prima citavo e che avidamente i borghesi tedeschi ma europei leggevano diventa a poco a poco un concetto scientifico sto dicendo insomma e ho finito che la convenzione europea del paesaggio è nient'altro che il trionfo per molti aspetti il termine ultimo dell'operazione che Humboldt avvia due secoli fa perché oggi davvero la faccia della terra è un unico gigantesco paesaggio qui solgono i problemi di cui non possiamo parlare ma siamo qui soltanto per ricordare che cosa che l'operazione che Humboldt fa e che ripeto ancora oggi determina la nostra prima istintiva direi culturalmente istintiva maniera di rapportarsi al mondo è un'operazione talmente complessa che ha bisogno di tempo Humboldt stesso ci mette 50 anni alcuni viaggi di cui quello americano di cui nel libro si tratta sicuramente il più importante ne seguirà uno russo successivamente in Siberia addirittura bene questo la rivoluzione ha bisogno di tempo ha bisogno di viaggio ed è una rivoluzione che avviene nella testa delle persone di nuovo qui torna Montaigne viaggiare significa cambiare il proprio modello di rapportarsi con l'alterità cioè alla fine cambiare il senso di ciò che noi crediamo sia l'alterità la differenza l'operazione che Humboldt fa è un'operazione di straordinaria sottigliezza tant'è vero che facciamo fatica oggi a Riga a prenderne nota in parte perché ci siamo ancora dentro fino al collo e secondariamente perché i nostri antenati di quel tempo dovevano essere molto più bravi di noi a stare al mondo e agire in maniera tale da portare avanti un progetto ma è un'operazione quella di Humboldt che coinvolge tutto il campo dell'estetica e qui adesso arriviamo a Stefano Rienti e al suo contributo all'eredizione dei testi di cui stiamo parlando che passa anche attraverso uno straordinario uso dell'immagine non soltanto il racconto del viaggio ma le immagini che riguardano il viaggio proprio perché la cultura borghese del tempo era sostanzialmente fondata sulle figure veniva dai formidabili voyaggi pittoreschi dai viaggi pittoreschi dove addirittura l'immagine sopravanzava di gran lunga non c'erano le macchine fotografiche dunque erano immagini artistiche fino in fondo quando dico soltanto un nome uno per tutti quando uno dei più importanti viaggiatori pittoreschi negli anni 90 del 700 arriva in Italia la Batte di Saint-Nom ha dietro con sé un drappello di una dozzina di artisti francesi per riprendere dal vivo le linee le fattezze dell'Italia meridionale che allora venne considerato un paese tropicale equinoziale e beh tra questo in questo drappello di persone c'erano fior di artisti un nome per tutti Fragonard Hubert Hubert cioè voglio dire il meglio il meglio Stefano Lienti a cui lascio la parola ha rivisto queste immagini e quello che di queste immagini è fatto credo che soltanto Stefano Lienti ve lo possa spiegare buongiorno spero che mi sentiate io ho la cattiva abitudine di parlare un po' bofonchiando non si capisce mai cosa dico quindi se dal fondo non mi sentite bene fatemi dei cenni per favore ringrazio Franco Farinelli per me è stata l'occasione isperata di incontrare delle immagini straordinarie sono qui presentato come un artista in realtà sono un infiltrato la mia formazione avviene su altri campi su altre discipline io sono un scienziato prestato alle arti e siccome le arti sono un'attività pratica invece la scienza è un'attività che ha una disciplina e una teoria molto rigide e molto severe ho scoperto che mi era molto più semplice e molto più confacente alla mia persona lavorare in un campo pratico come quello artistico e non continuare i miei studi scientifici io ho una larua in agraria e che ne so continuare a studiare i virus della vita per dirvi o delle cose del genere un po' struse e invece dedicarmi a lavorare con le immagini qualcuno ha scoperto che ho una mia naturale predisposizione a lavorare con gli oggetti che portano immagini produceva delle opere che qualcuno ha considerato arte e a questo punto questa diceria si è ribaltata su di me nella diceria dell'artista è diventata una professione e io da più di vent'anni che conduco questa professione al punto che senza aver fatto studi artistici adesso mi ritrovo in qualche caso a condurre laboratori d'arte e insegnare in accademie e università e quindi vuol dire che questa trasformazione è completamente riuscita completa ha preso piede e ha preso tutta la mia persona in questo senso discutendo poco fa con Franco Farinelli mi ha molto impressionato il coinvolgimento in prima persona di Humboldt in questo viaggio favoloso perché è un po' il coinvolgimento personale completo che molto spesso anche gli stessi artisti si trovano a vivere sulla propria pelle o comunque i personaggi che agiscono pubblicamente hanno proprio questa necessità di dare tutti se stessi a una missione a una specie di avventura personale che prende tutta la loro vita questo mi ha molto impressionato leggendo la la biografia di Humboldt e trovo che questo succede spesso ai personaggi ad esempio della cultura contemporanea che riguardano che ne so delle sfere che non consideriamo così vicine a quella di un viaggiatore scienziato o di un artista come sono che ne so i santi contemporanei ecco pensate dei personaggi come Francesco Forgione o Agnes Goncia Boiaggio o Carol Voitila ecco io ho citato tre persone con i loro nomi e cognomi ma li conoscete con i loro nomi d'arte i nomi d'arte sono Santa Madre da Pietro Alcina Santa Obeata Madre Teresa di Calcutta e Santo Obeato Giovanni Giovanni Paolo o Secondo ecco c'è una dimensione di trasformazione della persona ad esempio anche del titolo del nome che coinvolge queste persone e penso succede spesso anche agli artisti di cambiare nome e diventare dei personaggi pubblici io penso che quello che succede ad un artista è che si diventa qualcosa che non è più così aderente alle premesse della propria biografia e si diventa qualcun altro Humboldt rinuncia al suo titolo nobiliale si fa chiamare Humboldt e basta o addirittura qualcuno lo chiama solo Alexander gli scrive una lettera e gli arriva la lettera senza che ci sia stato bisogno di aggiungere degli altri elementi in più tanto è diventato famoso tanto lui ha messo tutto se stesso in questa missione di raccontare il mondo ecco lui cerca di fare questa cosa e ci riesce benissimo di tentare di raccontare il mondo e quindi di rendercelo disponibile di darci degli elementi per immaginare che quel mondo lo possiamo agire percorrere ci insegna qualcosa e non è soltanto qualcosa di indistinto lontano che non conosciamo in quello è bravissimo ecco mi è molto impressionato leggere la qualità letteraria delle descrizioni di Humboldt c'è sempre una dimensione molto sensibile personale fortissima che non troviamo facilmente nella letteratura contemporanea e quindi è grande letteratura in questo senso e lui ci riesce perché l'ha fatto perché quei viaggi li ha fatti veramente in prima persona non ci racconta mai i rischi che ha affrontato le sofferenze che ha affrontato questo passa al secondo piano è molto interessante questa cosa quindi tutto questo elemento di quello che è la cucina di tutto quello è un po' l'opposto di quello che vedete adesso in televisione quando si fa vedere i viaggiatori che sono lì che sono lì che rotolano dentro al fango che mangiano le cose più improbabili che sono costretti a torture micidiali perché c'è un che ne so un format televisivo che li costringe a correre tutto il tempo in mezzo alla giungla o a cercare dei passaggi in macchina chi lo sa tutto quell'elemento un po' da guardate quanto fatica deve fare lì sull'isola dei famosi è affamato a stare in questo posto esotico tutto questo elemento non c'è perché c'è un'altra ugenza c'è quella di raccontarci l'esotico ecco questa è una parola che in questo momento è completamente fuori moda stranamente ma in realtà questa necessità di affrontare il meraviglioso di raccontare l'esotico di raccontare qualcosa che non appartiene all'esperienza quotidiana è la molla irresistibile che lo ha spinto ad andarsi a cercare questi luoghi tropicali lui vede una pianta tropicale in un giardino botanico e decide che deve andare là dove ci sono quelle piante lì non è che vedete non è che l'ha visto la televisione e ha visto qualcuno che si rotolava nel fango sotto quella pianta e allora ha deciso che pure lui deve andare a vedere oppure forse gli basta soltanto perché l'ho visto in televisione no ha visto la pianta e decide che se esiste quello chissà cos'altro esiste ancora e questa attrazione irresistibile lo spinge ecco questa è una dimensione che noi nella nostra vita e somministrazione dell'immagine contemporanea non abbiamo più abbiamo la sensazione che il mondo sia tutto disponibile e che questo paesaggio è sempre perfettamente visitabile dentro una bella cornice è un bel quadro è una bella rivista è un bello schermo televisivo c'è una bella musica sempre dietro che te lo racconta c'è sempre qualcuno molto allegro e confortante che ti rende supportabile tutto questo anche se è tremendo non senti le puzze micidiali non senti il rumore frastornante non hai la spostatezza delle malattie e ti sembra che è tutto lì disponibile è sempre questa sensazione di aria condizionata perfetta che ti mantiene mi ha molto impressionato il racconto di una curatrice di arte contemporanea che è andata a visitare una biennale nei paesi arabi a Shajjah da queste parti e mi diceva la cosa che mi ha più impressionato non era le cose d'arte che vedevo lì dentro ma questi musei nuovissimi che hanno costruito per ospitare quelle cose dove c'era una tale monumentalità e pervasività di queste infrastrutture che io ero più incantato a guardare quello che l'arte che vedevo perché l'aria condizionata lì fa un caldo micidiale c'era ma le porte erano spalancate il portico era aperto non c'era una chiusura costa miliardi evidentemente mantenere l'ambiente in quel modo però lo possono fare ecco lei è rimasta più impressionata da quello che dall'arte che ha visto è quello che ci dovrebbe in qualche modo spingere ad andare a vedere cosa era successo là più che l'arte straordinaria che probabilmente hanno esposto e che ho lo sospetto in realtà che sia uguale a quella omologata che vedo in giro in tutte le date biennali del mondo in questo momento noi non ci rendiamo conto viviamo nell'epoca del grande omogenizzato ecco tutto è stato perfettamente attiturato reso commestibile per noi e non c'è più un altrove possibile dove andarsi a far affascinare per andare a cercare qualcosa che non fa parte della nostra esperienza quotidiana o l'esperienza che è stata prevista per noi consumatori questa è una cosa un po' folle e da questo punto di vista aveva ragione Pasolini che guarda caso è stato un grande visionario e anche un artista visivo se pensate che poi ha cercato di utilizzarlo in cinema quindi delle immagini per portare avanti qualcosa che erano delle sue riflessioni su quello che vedeva e lui era molto dispiaciuto che la tradizione culturale popolare italiana in qualche modo venisse accantonata e sostituita con una nuova cultura molto omogenizzata dove l'importante era che tutto venisse in qualche modo ricostituito dentro un recinto addomesticato in quel senso vedo la sua parola per l'omologazione noi non ci rendiamo conto che questo processo oramai è completamente completo e da questo punto di vista scoprire le immagini di Humboldt mi ha fatto pensare che allora c'era invece ancora il desiderio di utilizzare questa grande forza di propulsione fantastica per andarlo a scoprire veramente il mondo e quindi apprendere e andare le nostre ultime generazioni non c'erano più questa propulsione anche perché sono abituati che il paesaggio non la vedono più non so se avete notato una trasformazione tipica ad esempio del paesaggio italiano non è più facile andare in campagna non ci sono le strade per andare in campagna per dirvi lo spazio che circonda gli abitati è disegnato in modo che voi con la macchina non potete facilmente uscire dalle strade e andare in un altro spazio che è quello agrario ad esempio cosa che invece è sempre successa cioè il paesaggio agrario antico o fino a pochi decenni fa era in perfetta congiunzione con il paesaggio cittadino o del paese anche perché il paese era un piccolo centro magari che aveva all'interno delle attività agricole quindi era fondamentale poter avere l'accesso completamente al resto del territorio invece adesso questa cosa è stata completamente rinchiusa dentro una visione diversa che chiamiamo paesaggio e che in qualche modo dobbiamo imparare ad abituarci a considerare il paesaggio che è il nuovo paesaggio urbano da questo punto di vista noi artisti siamo un po' colpevoli in qualche modo siamo stati complici di questa trasformazione se ci pensate l'ultima grande stagione artistica che ha tentato di dare la piacevolezza e la facilità di immediatezza di immergersi dentro all'ambiente naturale e all'ambiente rurale uscendo dalla città è stata la stagione dell'impressionismo lì c'è la voglia di andare a dipingere nel plein air perché si sta direttamente dentro a un'altra dimensione di visione al punto che si inventa una nuova tecnica di rappresentazione visuale secondo me quella è l'ultima grande utopia se ci pensate nel novecento poi invece noi artisti ci mettiamo a fare delle cose un po' più subdole inventiamo il paesaggio urbano guardate che l'abbiamo inventato noi siamo complici in questo senso degli artisti bravissimi anche italiani pensate a Mario Sironi o a Gabriele Basilico che è morto da poco tempo fanno questa operazione molto forte di estetizzare qualcosa che a prima vista sembrerebbe terrificante orribile o molto doloroso da sopportare al punto che quelle immagini non sono più qualcosa che si contrappone a un immaginario invece vissuto come qualcosa di assolutamente positivo e personale a cui non bisogna rinunciare diventano la confezione o comunque la possibilità di guardare il mondo più consona e più familiare possibile allora quelle brutte periferie non sono più delle cose deprimenti ma sono il meglio delle cose da vedere e allora non scendiamo più dalla macchina e quando si va da un piccolo paese all'altro adesso io mi posso spostare in macchina ma lungo la macchina lungo la strada noto una strana cosa una strana striscia di terra dove passeggiano delle biciclette magari ci sono anche degli alberelli e addirittura c'è della gente che cammina a piedi ma io mi chiedo ma sono pazzi questi qui che vanno a passeggiare lungo lo stradone o è semplicemente il sintomo che non si va più a camminare in mezzo ai campi una volta andare a camminare lungo lo stradone uno l'avrebbero preso l'avrebbero rinchiuso come simbolo di sintomo di pazzia invece adesso noi facciamo esattamente quello perché ci fa paura andare a camminare nel campo pensate al piacere di camminare di notte in mezzo alla campagna illuminata solo dalla luna non so se l'avete mai fatto o la campagna illuminata solo dalle stelle un bot l'ha fatto di sicuro non poteva non farlo e descrive la sensazione positiva che per lui è fare questa esperienza adesso nessuno di noi lo fa chi lo fa è considerato un pazzo pericoloso invece facciamo questa cosa strana di a piedi fare la strada che va dal paese al cimitero lungo lo stradone facendo la passeggiata beccandoci tutti i gas di scarico e sentendo questo rumore di macchine che aveva avanti e indietro com'è stato com'è possibile che abbiamo rinunciato a quella sensazione che sentivamo positiva e l'abbiamo sostituita con qualcos'altro ma io penso che il risultato è perché c'è un'intelligenza superiore a noi che ha preso il sopravvento noi lavoriamo per delle altre intelligenze io penso che lo stesso Humboldt intuiva che quello che interessava a lui non era possibile realizzarlo perché c'erano delle altre intelligenze che lavoravano contro e quindi bisognava prendere una via di mezzo accettare dei compromessi è possibile forse sono compromessi no però diciamo hai detto tu prendere prendere una via più realistica ecco lui dice sono repubblicano però non muore in una Germania repubblicana muore in una Germania che è ancora un regno dicevo che Humboldt è ambiguo letteralmente ambiguo fin dall'inizio quando si dice ancora oggi c'è un termine un detto che si adopta lavorare per il re di Prussia e si riferisce a Humboldt nasce con questa figura è un nobile che lavora per l'avvento al potere della borghesia è vero che la Prussia tra riforme e rivoluzione era tra incerta ancora alla fine del settecento tra riforme e rivoluzione evidentemente è un riformatore lui è convinto che andando al potere la borghesia sarà in grado di realizzare quel mondo composto di libertà libertà egalità fraternità che a Parigi ha preso il potere questo fino al 48 poi Humboldt quando davvero la borghesia tedesca prende anche in Germania il potere e anche nel nostro paese in Italia il processo è quasi coevo contemporaneo il 48 è stato un anno molto molto problematico una delle tappe ultime del processo di unificazione nazionale ma quando Humboldt legge gli avvenimenti del 48 capisce subito che è finita e la sua grande disillusione la sua grande delusione cioè capisce che in realtà in realtà pur di andare al potere la borghesia è scesa a patti con l'aristocrazia nasce la chiamavano allora così la mitbestimmung cioè la cogestione del potere tra i due vecchi avversari l'aristocrazia da un lato e la borghesia dall'altro e in termini politici la delusione di Humboldt è terribile anche perché lui capisce molto più degli altri quello che sta avvenendo a tutti gli strumenti per leggere ciò che avviene ma nonostante questo nonostante questo il vecchio Humboldt riesce successivamente anche a per esempio far approvare in Prussia una legge per cui ogni schiavo che tocchi solo prussiano automaticamente sia libero venga definito uomo libero cioè voglio dire Humboldt ambiguo quanto si vuole e come le condizioni lo imponevano nella sua posizione e con il progetto che aveva in testa Humboldt però fino alla fine nonostante la disillusione è ancora convinto che certo il grande progetto borghese ha dei ritardi degli incidenti delle deviazioni ma che il percorso sia quello ed è questo che ne fa il fascino insomma certo Humboldt è persona che tiene insieme programmaticamente le culture i momenti però io credo che oggi l'attualità di Humboldt sia esattamente come tu dicevi Stefano in altra forma sia esattamente quello di un viaggiatore che viaggia all'interno di modelli mentali è una sorta di traduttore di modelli mentali cioè sa che ogni viaggio vero è autentico è un viaggio che si svolge certo sulla faccia della terra ripeto ma nello stesso tempo mette in comunicazione due mondi due mondi che sono attitudini culture modelli del mondo stesso il vero viaggio anche i nostri piccoli viaggi quelli che riusciamo a fare oggi sono questi quanto poi a un'intelligenza più generale è certo è evidente che il funzionamento del mondo beh come dire Ada Smith tanti anni fa diceva che parlava di una mano invisibile insomma che come dire senza essere vista faceva in maniera che le cose andassero come dovevano andare è uscito recentemente un libro di cui già si è parlato anche in Italia dove si fa riferimento una variante di questa versione a una strategia senza stratega è chiaro che il funzionamento del mondo nel suo complesso è qualcosa di troppo grande e come dire per essere concepito e praticato nei termini di una sola esistenza di un solo individuo oggi non c'è nessuno non c'è nessun cervello né singolo né collettivo che riesca a capire come il mondo funziona ma è così c'è qualcuno che sa come funziona la rete? non che non c'è per un motivo molto semplice insomma perché noi per spiegare qualcosa siamo costretti a pensare in termini di spazio e tempo ma nella rete spazio e tempo non significano quasi niente lo dico perché siamo affessi al della mente voglio dire ecco mi viene a proposito però tu hai eluso Stefano la domanda sulle immagini è chiaro che è una maniera tua sottile di rimandare direttamente al testo che l'editore apprezzerà però in realtà tu hai fatto un lavoro sull'immagine di Humboldt noi vorremmo capire come in quali termini è stato condotto io sono abituato a lavorare non con le immagini ma con gli oggetti che portano le immagini quindi io lavoro con gli oggetti guarda caso questi oggetti nella loro materialità si prestano ad essere trasformati quello con cui sono specialista nella trasformazione degli oggetti trasformazione della materia trasformazione con mille metodologie nella proliferazione delle immagini questo è un processo che avviene continuamente nella cultura contemporanea che è la cultura delle immagini per l'autonomasia quindi quello che faccio io è ad esempio nel caso di Humboldt raccogliere con delle fotografie il resto la testimonianza digitale delle immagini che ho trovato e da lì stampandole ed elaborando delle stampe ottenere delle nuove immagini utilizzando delle tecniche avventurose che ne so utilizzando una punta calda che brucia la carta e che trasferisce una parte dell'immagine su un altro foglio è un processo in qualche modo di copiatura e moltiplicazione delle immagini guarda caso ricalca un po' i processi vitali ecco qui ritorna un po' la mia preparazione da biologo in qualche modo sono abituato a vedere che mettendo un seme quel seme lì non c'è più ma salta fuori una pianta e guarda caso forse in cima alla pianta a volte compariranno dei nuovi semi ecco un po' questo è quello che succede nel mio lavoro prendo delle immagini e con un sistema di trituramento personale che mi invento tutte le volte in modo differente da lì salta fuori qualcos'altro mi sembrano dei processi molto banali poi mi accorgo che non sono sempre così facili e immediati da descrivere o da vedere però sicuramente il risultato non è scontato ha il segno di qualcosa di personale che ci ho messo dentro io ed è innegabile che la mia biografia ha contribuito a fare in modo che si possa riconoscere che l'ho fatto io questo sicuramente però volevo ritornare un attimo a una cosa che dicevamo questo discorso sull'intelligenza a me che sono uno scienziato ricorda e questa incapacità di descrivere le cose che abbiamo noi umani ricorda la differenza non facile da cogliere fra progetto e forma progettoide questo è un concetto che conosciamo un progetto è una cosa che noi riusciamo razionalmente a descrivere e che appunto attraverso una ricetta molto precisa degli schemi dei disegni cerca di rappresentare qualche cosa non so la ricetta è per fare un dolce quello è un progetto per costruire una casa e quindi c'è qualcuno che ha disegnato questo progetto o che ha scritto questa ricetta invece una forma progettoide è qualche cosa che risulta da un processo che non conosciamo il risultato c'è sembra che l'abbia progettato qualcuno in realtà non l'ha progettato nessuno è semplicemente il risultato di fattori diversi diversissimi che non riusciamo a capire come possono lavorare assieme e che hanno prodotto esattamente quella cosa lì e non un'altra non so un essere vivente noi possiamo fare la scansione di tutto il suo DNA e capire che quel essere vivente ha solo quel DNA che è solo il suo però come è fatto quel DNA a produrre quella persona non lo sappiamo sappiamo soltanto che quel DNA stava dentro a un ovulo che è stato fecondato e dentro a un utero materno si è sviluppato un po' per volta e non solo si è sviluppato lì dentro ma poi è uscito un po' per volta in un ambiente un po' imprevedibile che cambia sempre col tempo e con tanta roba che gli va dentro quel piccolo essere ha creato una persona intera se quella persona stava insieme a certe persone avremmo avuto un risultato se stavamo insieme ad altre ne abbiamo un altro ancora è un po' qualcosa difficile da descrivere fino in fondo ci dicono che non abbiamo più tempo a questo punto bisognava dichiaratamente cominciare a parlare finalmente della mente che cos'è la mente e le immagini perché la mente e le immagini mi sa che grazie grazie